Le società partecipate, composte da enti pubblici e privati, per gestire parcheggi, centri congressuali, polifieristici e altro. Perché nel corso degli anni da possibili opportunità si sono trasformate in potenziali palle al piede dei comuni? A Lucca, Palazzo Orsetti, sta cercando di cambiare i regolamenti che disciplinano il rapporto tra comune e partner privati. A Viareggio addirittura il peso delle partecipate potrebbe trascinare l'amministrazione guidata dal sindaco Betti nel baratro del dissesto. Ne parleremo nella nuova puntata dello speciale TG Noi. Ospiti l'amministratore di Lucca Holding, Andrea Bortoli, e l'ex sindaco di Lucca e consigliere comunale, Pietro Fazzi. E ancora l'amministratore della Viareggio Patrimonio, Gianluca Ruglioni, e l'ex primo cittadino di Viareggio, Luca Lunardini. Un appuntamento da non perdere per capire uno degli aspetti più controversi della gestione degli enti locali negli ultimi anni.